Grazie Lo sport Dimmi qualche cosa e io te la No Naturalmente poi metto più di 20 ore a settimana No, è uguale No Che schifo Innanzitutto c'è che non guardare la telecamera Hai capito? Sì Segui lì Vado Che bello Che bello Guarda Rettamente con quella faccia sorridente S'ambasato Eccazione Ok dai Ok aspetta zoom Perfetto aspetta Non lo cagare Aspetta 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 Fermati Gesto Ok Perfetto Ok E chi è? E chi è il mio rivale? Io non ho rivale No, hai fatto che sei mio rivale E chi è? Vai Vai Il segnale Il segnale Il segnale Il segnale Il segnale è massimo Naturalmente Si Certo Quindi per la maggior parte del tempo Quindi per la maggior parte del tempo Guardiamo tutto in altre definizioni Da capo che registi tutto Il segnale Ok Il segnale Quali tecnologie Ti ho per i tuoi servizi? Beh, io ho un SKHD Posso registrare 190 ore di distrazione Posso bloccare immagini Posso bloccare immagini? Stop, stop, stop Ebbè c'era quello che dice il 3D Il 3D Il 3D Il 3D Il 3D L'interattività Quindi infatti è lui che ha la risposta buona Quindi quali servizi 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 non sapete si schiappa